Upsa, tutti i miei cari upsini e upsine, come state? Come, come, come state? Spero bene, dai. Allora, questo video sarà un po' un mix tra una parte parlata e una parte con dei trigger che farò perché voglio raccontarvi oggi un po' tutto quello che è stato il mio compleanno, il mio diciottesimo compleanno. Più quello che è stato la festa che ho fatto appunto qualche giorno dopo. Ok, ma prima di iniziare indosso un paio di cuffie o auricolari, stenditi sul tuo letto e magari prova a chiudere gli occhi, ok? Ok, perfetto. Allora, inizio col dire che il mio compleanno, il mio diciottesimo compleanno è stato il 30 gennaio di appunto quest'anno del 2024. E' stato il 30 gennaio, quindi come vedete ormai sono passate, diciamo, quasi due settimane da quando l'ho fatto. E se avete controllato il calendario è stato di martedì, quindi era un giorno settimanale, quindi che cosa ho potuto fare? Sono andato a scuola il mattino quando sono tornato a casa, ho dovuto fare i compiti che faccio tutti i giorni, ho dovuto editare per appunto YouTube. E poi la sera ho anche fatto la mia prima lezione di scuola guida, perché mi sono iscritto appunto a scuola guida, frequento le lezioni appunto che fanno da lunedì al giovedì. E le frequento nel secondo orario, che è quello dalle sette alle otto. Quindi ho avuto una giornata impegnativa, diciamo. Non ho avuto proprio proprio modo di festeggiare, se non in realtà più o meno la sera. Perché i miei genitori avevano comprato tipo una monoporzione della torta millefoglie, che è la mia torta preferita, e quindi ci siamo mangiati quella. E questo è stato un po' il giorno del mio compleanno. A scuola avevo portato delle tortine preconfezionate, delle patatine così, per, diciamo, festeggiare un minimo anche a scuola, ecco. Ma poi, basta. I festeggiamenti più grandi sono avvenuti il 2 febbraio, sempre del 2024. Quindi il venerdì. Io ho detto, faccio il compleanno martedì, ho aspettato il venerdì sera per festeggiare. E' stata una festa molto, molto, molto bella, che ci è voluto tanto tempo per organizzarla. L'ho fatta in un ristorante e ho affittato una sala non troppo grande, ma neanche troppo piccola, di questo ristorante. Perché eravamo in 34 persone totali, tra amici, più in realtà qualche parente. Per esempio c'erano i miei genitori, i miei nonni e qualche mio zio. In totale eravamo 34. Questa sala era stata totalmente decorata a tema. Perché il tema principale di tutto il mio compleanno sono stati i colori nero e oro. Per quanto riguarda le decorazioni totali di sala, più, diciamo, i vestiti, appunto, gli abiti. Cos'altro vi posso raccontare? Questa sala, grande. Adesso iniziamo anche con i suoni. Questa sala l'avevamo decorata con un, per esempio, un cerchio, un cerchio, un cerchio di palloncini. Come tipo struttura per fare le foto, cerchio, 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 che era disposta in una specie di angolo. In un altro angolo avevamo il DJ che ho preferito, appunto, prendere anche un DJ per animare la festa in generale. E i tavoli erano tutti, appunto, con tovaglie nere, i tovaglioli nero e oro, dei runner, mi sembra si chiamino. Runner, runner, runner. Disposti lungo tutti i tavoli. E, appunto, abbiamo cenato sul biglietto di invito. Avevo scritto agli invitati che potevano arrivare dalle otto e quindi, diciamo, che per le otto e mezza erano arrivati quasi tutti. Quindi ho aspettato le ultime persone che arrivassero e abbiamo iniziato a mangiare, ecco. Nel menù che ho scelto, avevo scelto tre antipasti e due primi. E sono bastati. Le persone mi hanno detto che, appunto, poi erano piene. E' anche vero che, se non lo fossero state, potevano chiedere di averne di più di una determinata porzione. Poi è troppo divertente come devi aggiustarti a un po' tutti. Quindi hai, per esempio, una delle mie migliori amiche è celiaca. Quindi fai la monoporzione del menù fatta solo per lei e anche della torta. Un'altra mia amica è musulmana e quindi non mangia la carne di maiale. Quindi le porzioni che hanno la carne devono essere sostituite. Magari a una persona è intollerante a un determinato alimento. Quindi sostituisci il piatto per cui è stato un po' così, però è stato divertente. E niente. Adesso inizio però a fare qualche trigger perché sennò non ci muoviamo più. Perché ho ricevuto appunto dei regali e qualcuno ho deciso di portarlo qua per farvelo vedere. Perciò iniziamo un po'. Un gruppetto di persone. In questo caso un trio. Mi hanno regalato questo braccialetto. Molto carino. Dovrebbe essere pietra lavica questa qui. Mi hanno detto che vorrei appunto sfruttare in qualche occasione. Ma devo capire quale. Una cosa devo dire ancora è che io come in realtà idea regalo generale ho detto Ragazzi, preferisco, voi però scegliete voi, se mi mettiate una somma di denaro da voi scelta in una busta chiusa con anche un bigliettino che magari mi scrivete voi, capito? Che posso così anche tenere come ricordo in modo tale da poter aiutare a pagare con il denaro che ricavavo la festa perché non volevo fosse totalmente a carico dei miei genitori in quanto è costata un pochino, magari non troppo per alcuni però volevo appunto contribuire a dare una mano e ce l'ho fatta, anzi, è andata molto molto bene e quindi i regali che vi faccio vedere sono per esempio di quelle persone che hanno magari scelto di fare qualcos'altro che però mi hanno comunque scritto un bigliettino a mano che posso tenere Questa si apre Un'altra mia grande amica mi ha regalato questa specie, lo chiamo così ma portachiavi, lo possiamo chiamare Pandora spero riusciate a vederlo che devo dire mi piace un sacco perché è molto molto semplice alla fine se lo guardi non lo userò come portachiavi perché lo rovinerei e quindi ho pensato di attaccarlo in qualche posto dove magari non venisse troppo urtato troppo di qua oppure ho pensato nel caso c'è un momento in cui indosso dei gioielli argento potevo attaccarlo per esempio a uno non so come chiamarlo di quel pezzo di pantalone dove passa la cintura no? sai che in un pantalone ce ne sono mi sembra cinque in uno di quelli così che pendesse verso il basso e magari veniva carino non lo so, devo provare poi altri due regali di cui vado troppo fiero sono stati allora questo qui è un fangopop allora devo dire io non sono mai stato un grande grande fan dei fangopop ma da quando un'altra delle mie migliori amiche mi ha regalato quello di Lisa delle Blackpink mi sono fatto regalare tutti e tre gli altri quindi oggi volevo mostrarvi quello di Jenny che è la mia bias ed è quello che trovo più stupendo ma ho anche appunto gli altri due per completare il set e qui voglio farvi una domanda voi siete del team tiriamo i fangopop fuori dalla scatola oppure no perché io allora li voglio tenere esposti nella scatola appunto però per osservarli meglio li tiro fuori li prendo proprio in mano per osservarli meglio quindi io lo tiro fuori il fango però per esporlo lo lascio nella scatola anche perché così non prende polvere è tutto un altro regalo anche questa volta devo dire più inaspettato che mi è stato fatto sono stati appunto gli album K-pop in quanto ragazzi io sono un grande fan del K-pop e non possiamo farci niente e dei miei amici mi hanno regalato insieme hanno raccolto un po' di soldi insieme per poter prendere questo album che si chiama Maxident degli Stray Kids e sono anche felice che hanno azzeccato la versione standard che preferivo tra le due e mi è piaciuto un sacco questo album ha anche un valore affettivo perché io ho scoperto gli Stray Kids quando hanno pubblicato Maxident ma non l'avevo mai preso perché ho iniziato a collegionare album dall'anno scorso alla fine quindi oltre a questo album qui mi hanno anche regalato il Porn 2B versione limited delle Itzy e il secondo fu l'album la versione grigia mi sembra mi sembra si chiami delle G-idol e niente sono troppo felice prima di concludere questo video volevo però farvi vedere una foto del vestito che spero possiate apprezzare la zoom un po' per farvi vedere il vestito che indossavo questo qui spero poi vi lascio andare a fine serata come ricordo ho scelto di dare a tutti una bomboniera chiamiamola dai che ho fatto interamente a mano le ho fatte tutte a mano e sono state queste camicie con papillon ce n'erano di due tipi nera col papillon oro e oro col papillon nero e tu puoi sfilare i confetti e ci sono appunto i confetti ok ok dai penso sia giunto il momento di darci la buona notte quindi cucù cucù ora tocca tocca a te iscriviti al canale se sei nuovo per entrare a far parte di questa famiglia su youtube che sempre si allarga piano piano ma si allarga sempre importantissimo lascia un like se ti va di supportarmi magari un bel commento il video di oggi finisce qui ma vorrei che tu usufruissi anche di guardare il mio video precedente che metterò qua una mia playlist che metterò qui e qua che metterò il tasto per andare sul mio canale vedere vedere qualunque video oppure shorts perché ricordatevi che faccio anche gli shorts ok sono veramente felice di aver fatto questo video spero di essere riuscito a intrattenervi e vi do la buonanotte va bene quindi un grande bacio buonanotte 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 buonanotte